Ha aggredito fisicamente con offese a sfondo omofobico in pieno centro a Salerno e la triste vicenda che ha visto come protagonista un 32enne di origine onduregne e residente a Baronissi che, nella serata del 30 aprile intorno alle ore 19, è stato aggredito nella zona di via Mercanti dal suo ex datore di lavoro, identificato poi dalle forze dell'ordine come il proprietario di un locale della zona. La denuncia arriva dall'arci gay Salerno che ha espresso tutta la propria vicinanza e solidarietà alla vittima di questa feroce aggressione razzista e omofoba. Il 32enne, stando a quanto riportato, era da solo quando è stato oggetto di offese, preso a schiaffi e strattonato. Immediata la denuncia ai carabinieri da parte della vittima. «Ero appena uscito da un bar ed ero in sella alla mia bici quando questa persona mi si è parata davanti, mi ha afferrato per i capelli facendomi cadere», ha raccontato il giovane, che è stato a soccorso presso il locale pronto soccorso dopo l'immediato intervento sul posto della polizia. «Mi ha preso a schiaffi e pugni», ha continuato, «e poi ha iniziato ad insultarmi con frasi molto volgari. Sono sconvolto, impaurito e penso a tutte le persone che subiscono questo tipo di aggressione. Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare. Adesso voglio solo ritrovare la mia serenità ed avere giustizia per me e per tutte le vittime come me». Il commissario di Arciga e Salerno, Francesco Napoli, afferma di aver sentito il 32enne e aver trovato una persona impaurita e profondamente scossa. «Durissima la condanna per quanto accaduto». Questi episodi sono parte di quel clima di violenza e discriminazione che si respira sempre più prepotente nel nostro paese. «Le ripetute esternazioni di stampo omo-lesbo-transfobico che sentiamo ogni giorno dai nostri governanti contro la comunità LGBT, contro le donne, contro le persone straniere, contro le persone con disabilità, non fanno altro che autorizzare personaggi di questo tipo a tirare fuori la propria rabbia e il proprio odio nei confronti di persone che ritengono diverse ed inferiori. Tutto questo deve essere fermato, ha proseguito Napoli». Il commissario ha annunciato che presto sarà convocata un'assemblea per valutare un'eventuale manifestazione pubblica di solidarietà e che il comitato salernitano si costituirà parte civile in un eventuale processo. Intanto, ha concluso Francesco Napoli, «Le istituzioni cittadine battano un colpo, prendano posizione. Ancora oggi siamo senza un presidio di tutele e aggregazioni per la comunità LGBT. Non riusciamo ad erogare servizi adeguati. La scarsa attenzione al tema dei diritti civili, delle uguaglianze e del contrasto all'odio sfondo sessuale genera impunità. Autorizza chiunque a prendersela con la nostra comunità. Tutto questo è inaccettabile. La politica locale deve iniziare a prendere delle posizioni ad alta voce, senza sé e senza ma, ad agire di conseguenza con atti pubblici e amministrativi che proteggono le persone LGBT in questa città». Resta infatti aperta la vicenda della sede di Arcighe e Salerno, ancora senza locali. Continua intanto il lavoro del Comitato Territoriale che attraverso il commissariamento ha avviato una frase pre-congressuale che avrà nelle prossime settimane una prima tappa di avvicinamento al Congresso Provinciale.